Il Comune di Baradili ha da sempre avuto un atteggiamento molto orientato verso la sostenibilità ambientale e eravamo appunto orientati in questo senso ma ci ha dato l'opportunità di redigere il PAES, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile, il progetto realizzato dalla Regione Sardegna Smart City CO2. Quindi questo è stato un processo che ci ha consentito di fare un avanzamento in quel percorso che noi avevamo già individuato. Abbiamo quindi realizzato il PAES, l'abbiamo approvato e le azioni che sono state inserite nel PAES ne abbiamo già realizzato, quelle previste nelle annualità 2013, 2014 e 2015, proprio grazie al finanziamento avuto dal Fondo Gessica comunitario. Infatti siamo stati il primo Comune che ha potuto accedere per una serie di motivi, forse proprio per la dimensione, non essendo soggetti a patto di stabilità eccetera. Abbiamo avviato la procedura e grazie al sostegno della Regione Sardegna abbiamo acceduto al Fondo Gessica e abbiamo realizzato i primi quattro interventi che ci hanno consentito di ridurre la produzione di tonnellate di CO2 di 25 tonnellate annui di CO2. Quindi un intervento molto importante per quanto riguarda la comunità di Baradeli. Questi interventi sono stati quattro fondamentalmente, abbiamo rivisto l'illuminazione pubblica quindi con lampade a basso consumo a led, abbiamo realizzato una pensilina fotovoltaica nell'area sosta camper, quindi una zona molto interessante che appunto consente di dare un servizio con energie da fonti rinnovabili. Abbiamo sostituito la caldaia a gasolio per il riscaldamento del comune e abbiamo messo un impianto di solare termico negli spogliatoi degli impianti sportivi consentendo così di avere l'acqua calda da fonti completamente rinnovabili. Questi sono quattro interventi molto importanti che ci hanno consentito appunto di raggiungere gli obiettivi fissati nel Paes e grazie al finanziamento e al ricorso del mutuo del fondo Jessica appunto che ci ha agevolato il percorso in quanto la disponibilità economica chiaramente di un comune piccolo come Baradeli non poteva essere così importante da poter realizzare questi quattro elementi. Quindi il comune di Baradeli continua nel suo percorso di sostenibilità ambientale di grande attenzione verso la tutela del suo patrimonio fondamentale che è quello appunto del suo ambiente senza il quale senza la tutela del quale non c'è nessun processo che possa essere realizzato. Quindi ben felici di aver fatto questa azione. Proseguiamo adesso stiamo facendo il monitoraggio delle azioni fatte nel Paes e scritte nel Paes e dovremo fare una rimodulazione per adeguare lo stesso piano con interventi nuovi in cui si è rivelata la necessità di una rimodulazione proprio per realizzare nuovi interventi sempre nella direzione del rispetto ambientale.